Attenzione, Pietro, qua dobbiamo chiudere la partita, mettila davanti, commento a caldo delle spettatrici, attenzione, la signora è la moglie di? Del Carabiniere. Del Carabiniere, ma io di fronte all'arma mi inchino, veramente, allora un commento a caldo, aveva già visto il suo marito Gioia Rabocce? No, non l'avevo mai visto, ah sì sì, forse Domenica, Domenica. Domenica, invece la signora è un'amica, una parente? Eh, sono moglie di il signore con la barba. Che io ieri ho detto che ha un bellissimo aspetto perché ha un volto cinematografico e assomiglia a lo Sonwell. Allora, attenzione, momento decisivo, Andrea, se tu metti questo punto abbiamo vinto, vorrei che tu lo metti, concentrati. No, voglio tirare l'ultima palla per favore. Allora. Sì, voi dovete tirare l'ultima palla. Eh, stiamo avanti a lui che dovete tirare l'ultima palla. Ah, no, aspetta, scusami, ah, intanto, intanto, avevo detto che già si vinceva qua. Vincerebbe lo stesso, ma faccio... Attenzione, momento, togliamo il cappellino senza cappellino? Lei ha in mano la partita. Se la sbaglia ci può dare a noi la partita. E' la presa. Un applauso all'arma dei carabinieri, che ci difende sempre. Allora.